Purtroppo si è verificato in questo studio un gravissimo caso di razzismo dopo Boateng credo che verrà chiamato anche lui all'ONU per parlare di discriminazione razziale No, che ci mette in tre giorni per dire la rosa! Guardate dove mi hanno messo l'apo de Carlo, espulso, cosa avete combinato Pozzini? No, ci siamo un attimo consultati, abbiamo sopportato per tutta la prima parte della trasmissione Però abbiamo anche deciso, visto che comunque siamo magnanimi sostanzialmente che se tu vuoi ancora respirare aria di primato, che è un po' di tempo ormai, ti teniamo qua con noi Senza sedia però, due anni senza sedia Io pretendo di poter scegliere le persone che frequento e siccome io sono a colori mentre loro sono in bianco e nero io preferirei anche poter scegliere dove stare, io volevo stare da quella parte Vai, vai, va, ti avrei qualcosa di andare con persone più educate, civili Guardate i miei occhiali, grazie Questo vuol dire avere dignità e carattere, dignità e carattere E non possiamo che esecrare dopo i burrazzisti questo atteggiamento che ha coinvolto anche il Presidente Pico del Sessione Hanno avuto un sussulto di disgusto e repulsione Un sussulto di disgusto e repulsione Va bene, è partita la partita, scusate il gioco di parole Forza ragazzi, dai